Angelo, io non so cosa fare, non lo so, perché viene sempre in ritardo, come mai viene sempre in ritardo? Io capisco che a te o a te lo ti piace, però l'amico è il suo amico, non ci vuole. Caro amico, sono distrutto. Sì, e come mai? E perché ieri avevo un appuntamento galante. Con cui? Con galanti? Cui è? Galante? Che vuol dire? Amoroso. Ah, amoroso, sì, sì. Amoroso? Ma com'era, com'era, com'era? Una bella ragazza. Sì, alta, sì, bionda, bionda, un metro e ottanta e forse più. Ma ci pigliassi i misuri? Ma mi sono un po'... Com'era, com'era, dimmi, com'era, com'era. Bella, bella, sesta misura. Quanto? Sesta misura. Peggi che le rossane allora. Non lo so, non lo so. Non voglio dire io. A rossane... Perché ce n'è una, a rossane la sesta. Sì, a rossane la sesta, la sesta, la sesta, l'ottava, insomma, non si capisce niente. Meraviglie? Sì, sì. Ho capito. Sì. 41 di fianchi. 41 bis? No, no, senza bis. Senza bis. 41 di fianchi. Di fianchi. Gambe lunghe. Lunghe. Mi ha detto... Sì. Aspettami per le otto, che arrivo. E poi non vieni. E io ero lì, dalle sette. Sì. Ti potevi vedere un giorno prima pure. Ti trovavi. Aspettando. Aspettando. Lì, se non arriva. Pensavo. Sì. Che pensavi? Quello che succedeva dopo. E che succedeva? Non ci resta niente. Non è venuta. Non vieni. Mi ha lasciato. E tu dici che ti cacchieria chissà. Allora io... Ti cacchieria. Sì. Allora io disperato. Sì. Preso di malinconia. Sì. Mi sono appoggiato su un muro. Sì. Così. Sì. Ad un tratto sento una voce dietro che mi dice... Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Sì. Sono sicuro che era la tua coscienza chissà. No, no, no. E qui era? Mi era appoggiato sul cittofono di una signora.